Di fronte a una prova tanto dolorosa, rivolgo a supplica la vostra eminenza reverendissima perché mi sia consentito di concludere i giorni che il Dio mi vorrà ancora concedere qui, in questa canonica, che fin dal momento della mia ordinazione sacerdotale è stata la mia unica casa. Chi è? Ma perché? Sono clandestini. Se chiamo il pronto soccorso, c'è l'obbligo della denuncia. Perché ha lasciato entrare quell'esercito? È un rischio per tutti. Sono responsabili della sicurezza di zona. Stiamo localizzando dei clandestini. Quando la carità è un rischio, quello è il momento della carità.